Non vorrei fare, ammetti che un giorno venga l'ActiMail da me dicendo Franz, vorremmo che tu ci sponsorizzassi Io dico no, guarda, siccome fa a cagare, proprio nel vero senso della parola, mia figlia Preferisco di no Ciao Pollo Pio, benvenuto L'ActiMail Made in Utah Oh sì Allora ragazzi, prima di cominciare a vederci gli highlights della notte, così andiamo sparatissimi Volevo aprire con voi un paio di pacchettini dal mondo Top Shot Perché, perché insomma, sono lì, sono lì che attendono ad essere aperti da diversi giorni Quindi, andiamo su Top Shot E direi di partire con il buon Duarte Tanto sai che ci trovi Duarte dentro Però mi interessa sapere il seriale di Duarte in realtà Praticamente le figlie tra un po' le chiami, come le birre La grande, la media e la piccola Occhio a non iniziare a chiamarle 0,20, 0,30 e 0,50 Potrei chiamarle la bionda, la mora e la rossa, anche così Aboliamo l'ActiMail Vabbè dai, andiamo ad aprire Duarte Cioè proprio apriamo Duarte Così Vediamo il seriale che trovo Sarebbe bello trovare il 3 3 Duarte 3 Lo vendo subito a migliaia di dollaroni E invece troverò il 70 milioni e 526 Cosa ne pensi a doppietta Ferrari? Allora, trovo il 1515 di Duarte Bell'assist tra l'altro per My Man a Isaiah Jackson Bravissimo Duarte 1515 di 8.414 Vabbè Chris Duarte assist E intanto Ce lo siamo messi via No, doppietta Ferrari l'ho seguita Perché ero in macchina Cioè l'ho seguita Nel senso Ero in macchina Ad ascoltarmi tutto il calcio Minuto per minuto E facciano il collegamento Anche da Cos'era? Abu Dhabi? No Dov'era? Il Bahrain Ok E Insomma Ho letto Ho ascoltato Della Della doppietta Ferrari Per cui Ferrari Per cui insomma Va bene così Continua a rimanere uno spreco di benzina Ma Va bene così Duarte e Top Rookie L'anno prossimo si ritira L'anno prossimo Tra l'altro ragazzi March Madness Con una marea di sorprese Marea di sorprese Ma andiamo avanti Apriamo il Base Set 2 Vediamo che ci troviamo E dopo andiamo direttamente a vederci gli highlights Un attimo che faccio partire la musica Così a caso Il predestinato vince Ragazzi A proposito di predestinati Minnesota Ragazzi Occhio a Minnesota Sono sesti eh Sesti Jumpshot di Nikola Vucevic Bella merda Ce l'ho già Lo vendo Al miglior offerente Il jumpshot di Nikola Vucevic Ragazzi Chicago Bulls Che sono a rischio play-in Così per dire Poi abbiamo un Endos Steph Curry Steph Curry Steph Curry Oh vediamo quanto vale questo Oh almeno ho trovato un giocatore normale Un giocatore Un giocatore decente 12 dollari Molto bene Killian Aise Solito assist di Killian Aise L'inutile assist di Killian Aise Ah no è anche recente questo 16 aprile Grazie Lorenzo 2199 per i 5 mesi Bentornato anche a te Bentornato anche a te Killian Aise Ed ora andiamo ragazzi Al pacchetto Principe Ah era rookie season Tra l'altro Killian Aise Rookie season È vero Perché era base set 2 Oh Oh Let's see Let's see 4 dollari 4 dollari Ma va a fa culo 4 dollari Vabbè Allora Andiamo ad aprirci il pacchettino Quello serio Andiamo ad aprire il pacchettino Quello serio Quanto fa schifo Aise Vabbè Ognuno ha quel che si merita Sono sesto Con la possibilità di arrivare davanti a Golden State E io in preco No allora Ragazzi Questo è l'elite pack Ragazzi Rullo Rullo di tamburi Trovato Steph La sentenza del France Fuori per il resto della stagione Playoff saltati Carriera finita È stato bello Steph Ragazzi Siete pronti Siete pronti Dopo si comincia a vederli Ai lights Vamos Vamos Pregate Pray for France Elite Assist Di Westbrook Tanto un attimo Che mi salvo Screen presso Mi salvo lo screenshot Dell'ordine Delle partite Silenzio 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 Parca Aspetta un attimo Un attimo Un attimo Vorrei prendere uno screenshot E non me lo fa fare Eccolo qua Ok Screenshot preso Silenzio ragazzi Silenzio 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 Ok Silenzio Partiamo dalla merda Com 6018 Stoppata di Frank Antili Chinà Signori La stoppata di Frank Antili Chinà Notevole 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 Silenzio 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 Top shot Di Frank Antili Chinà Assam Whiteside Ragazzi Solo stoppate Oggi solo stoppate Whiteside La stoppata Su Jalen Sags Stoppattona Di Assam Whiteside Silenzio 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 Amir Coffee Attenzione Il Pokémon Il Pokémon La schiacciata Del Pokémon Koffing Uka Donchich Benvenuto Buongiorno 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 Silenzio Silenzio Calma 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 Ragazzi Calma Calma Un attimo Che devo fare una cosa Prima Calma Ragazzi Calma Andiamo su questo Buddy Hield Rubata di Buddy Hield Tra l'altro Rubata di Buddy Hield Hanno chiamato da scuola La media ha vomitato Shhh Zitti 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 Siete pronti? Siete pronti? Phoenix Suns Leggendaria 25 Di Andre Hayton Sono andato a un passo dal numero Maremma Trottola Olo Icon Serie 3 Zitti 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 Tutti Zitti 1903 Uhuuu Vamo Vamo Ho appena droppato una roba che costa 1903 dollari Donna Ma sei cretino Ma è l'una Ma che cazzo De una Attento Sono tutte sorde qua Ma che sono tutti i soldi? Sono tutte sorde E vicine de casa Ma sei scemo Hayton 25 25 Sono tanti sordi Posso chiudere la live adesso ragazzi Sono SOR Di Cazzo Che urli ancora Ma sei scemo Amo Ma quando ti ricapita? Comunque tranquilla Non lo vendo Come non lo vendi? Sono i vacanzi e le vacanze Azioni dell'Actimel 1903 dollari Di azioni Actimel Giovani Giovani Io posso chiudere qua La live Ciao Franz Alla prossima live Allora Cosa ha fatto? Che cazzo Io sono di là Tranquilla Che mangio? 25 trade ticket Ragazzi Donna C'è il viaggio alla Hawaii Con 1900 dollari Da solo Forse Solo il viaggio Però Oh madonna Ragazzi Oh madonna Oh madonna Buongiorno Siamo di Oh madonna Quando vuole la cartella Esattoriale Quanto costava il pacco? 25 trade tickets Cinque chic Questi suggerimenti Mi piacciono 25 trade tickets Wow Wow Cosa la smetto? Seguire le tue live Quella che non abbiamo Le finestre insonorizzate Sì che sono insonorizzate Ho pagate 1900 dollari Queste Ragazzi Io non so che dire Non so che dire Non so che dire Non so che dire Stavo appena ascoltando Che la Russia adesso Ha già detto Che devi al tuo Gas In Cina Eh Tu inizia a fare Ragazzi Io Mi vergogno un po' Mi Mi vergogno Un po' Mi vergogno un po' Vabbè Amo Posso andare avanti Con la pausa franzo Sì ho capito Ricordati che dopo Sto sclero Io tra un po' Devo andare via Tranquilli Ho solo droppato Eiton 25 1900 dollari Spendendo zero Ragazzi Eiton si merita La convocazione All'Allstar Game Ma voi pensate Un attimo Aver trovato Il 22 Madonna Vediamo quanto costa Quanto costa Il 22 Eiton Cambia numero Eiton Prendi il 25 Fidati di me Prendi il 25 Prendi il 25 Di Andre Fidati Fidati Incredibile Quanto poco costa Il 22 Vediamo Non l'hanno messo in vendita Ragazzi 1900 dollari Tra l'altro Nel momento di minimo storico Dei prezzi Ragazzi Io aspetto Io aspetto Questo Appena tocca Quota 3k Saluto di Andre Eiton Esatto Oggi posso finalmente Permettermi Permettermi Un pieno di benzina Finalmente Ragazzi Un pieno di benzina Un piro